Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi martedì 9 maggio e questa è la rassegna che tutte le mattine alle 7.30 in diretta vi sveglia con le notizie del giorno, quelle che troverete poi sui quotidiani in edicola, il resto del calino del Corriere Adriatico. Cominciamo dal santo di oggi, vediamolo subito con la grafica, oggi la chiesa ricorda San Pacomio tra i tanti ma c'è anche un altro santo che festeggeremo tra poco che è il patrono di Cagli nel Pesarese, il sole è sorto alle 5.48, tramonterà le 20.20, il tempo ancora, tempo brutto oggi mamma mia non se ne può più, allora vedete il tempo per la giornata di oggi, qui siamo sul sito di trebimeteo.it, nella mattinata ancora pioggia, pioggia diffusa su tutta la regione Marche, compreso il pomeriggio, anche se poi ci saranno delle schiarite che diventeranno man mano sempre più ampie nel corso della serata e poi la nottata. La giornata di domani, mercoledì, mercoledì 10 di maggio, si preannuncia serena con qualche velatura, soprattutto il mattino, poi schiarite ampie il pomeriggio, ancora un po' di velature durante la serata, la notte qualche nuvola, giovedì, vediamolo, giovedì 11 ancora qualche nuvola, ma tutto sommato dovremmo godere di un po' di sole. Allora andiamo adesso a leggere i giornali, cominciamo dal resto del Carlino che in prima pagina pubblica la fotonotizia del dramma di una ragazzina di 16 anni che è caduta dalla finestra del liceo Mamiani, ho detto si è buttata, mi è sfuggito, ma in realtà ancora non è ben chiara, diciamocela tutta, purtroppo non è ben chiara la dinamica, anche perché è difficile cadere dalla finestra di una scuola. Comunque questa è la notizia, grande paura, si salva per fortuna, grazie a Dio, grazie alla siepe che era lì sotto, compagni ovviamente sotto shock, compagni spaventati, siamo a due passi dalla sede della provincia, su via Gramsci appunto a Pesaro, questa è la fotografia con i momenti del soccorso. Poi c'è la notizia in primo piano della bandiera blu, la baia di Pesaro resta fuori, perché si domandano, i pesaresi penalizzano sempre noi, Pesaro, Fano, Senzalido per esempio e Gabicce confermate. Poi i pesaresi restano fuori dalla popolare Valconca, dalla banca, sconfitta il comitato e poi la notizia che vedremo tra poco, c'è un imprenditore locale, Massimo Berloni, a favore della clinica, la clinica privata a Chiaruccia e secondo Berloni il presidente di Dondap è una grande opportunità. L'ho vista gridare e cadere, scrive il Corriere Adriatico, la studentessa di 14 anni precipita dal secondo piano del Mamiani, il racconto dei testimoni, shock in pieno centro, un volo di 8 metri, ma la siepe ha potuto attutire il colpo e dunque adesso la ragazzina è ricoverata a San Salvatore, ma non è grave, è sempre rimasta cosciente mentre veniva soccorsa, indaga la polizia. Invece a Montegiano, una frazione del comune di Monbaroccio, un anziano è stato trovato morto in giardino, si tratta di un pensionato di 75 anni, originario e residente in Veneto, ma che da tempo era domiciliato in zona. La pagina di Fano invece, eccola qua, a Baia Metauro, guardate queste fotografie, riconoscerete sicuramente la zona, stiamo parlando di Baia Metauro, il sottopasso che poi porta alla nazionale, lì c'è una casa dove ci abitano delle persone di etnia Roma e a Baia Metauro sono tutti scontenti, operatori e residenti protestano per la presenza appunto di questa comunità, degrado e sporcizia a due passi dai lidi e qui ci sono le foto di tutte le persone intervistate dal resto del Carlino, dove si parla ancora di bandiera blu, si confermano promossi e bocciati, niente vessillo all'Ido e anche all'Arzilla. Dicevamo della clinica, clinica privata, grande opportunità per Massimo Berloni che ha dato l'adesione al progetto del gruppo San Savini, il gruppo numero uno, tutto ruota attorno a questo imprenditore che è stato anche vicepresidente di Confindustria Rimini. Oltre ad Ettore San Savini, titolare di oltre 30 cliniche, circolano i nomi degli imprenditori Mauro Papalini, lo stesso Massimo Berloni appunto, e dell'ortopedico Raul Zini. C'è una lettera con cui il gruppo San Savini ha presentato il suo progetto, il presidente della regione Luca Ceriscioli, che è anche assessore della sanità, lo ricordiamo, risale ai primi del mese di aprile ed è anche possibile che qualche contatto già ci sia stato tra il primo cittadino di Fano, Massimo Seri, e il governo regionale, il governatore regionale. Io credo di sì, perché Massimo Seri insomma non si è mai buttato via, in questi ultimi giorni sta sponsorizzando bene questa cosa della clinica privata, probabilmente ha visto il progetto, ne ha parlato con qualcuno ed è sempre più convinto che lì si possa fare. Ma se da una parte ci sono grandi aspettative per questa clinica privata, dall'altra la sanità è un po' così quando si parla di autisti a piedi, quelli della Croce Verde per esempio, domani si decide sulla loro sorte, c'è un incontro all'ufficio del lavoro. Poi le multe, quelle che si fanno a raffica al semaforo di Viale Primo Maggio, quello che va verso Pesaro, questa è la fotografia che vi indica la zona. Ebbene ci sono troppi dubbi, dai cartelli al regolamento. Dai cartelli che non si vedono a questo regolamento c'è un'interpellanza dei 5 Stelle fanesi in Consiglio Comunale. E poi la novantenne, ricorderete ieri la notizia, abbiamo dato di questa novantenne che è stata buttata in via Giolite giù con la bicicletta, adesso lei dice io, no no, sono già tornata in bicicletta, già l'ho ripresa. e dice se lo prendono, perché adesso si cerca il pirata della strada che l'ha buttata giù con la macchina, una Renault Clio, se lo prendono saprò cosa dirgli. Dice questa nonnina di 91 anni, urtata da un'auto pirata appunto in via Giolite. È successo domenica sera alle 19.50, questo incidente alla rotatoria tra via Giolite e Solferino, una Clio è sfrecciata toccando la bicicletta dell'anziana, l'è finita a terra, per fortuna è andata tutto bene, questa nonnina adesso è già risalita in bicicletta, però insomma è una bella nonnina piena di grinta e che dice se lo prendono gliene dico 4 io. E poi a Fossombrone, sempre dal resto del Carlino, a Fossombrone si gioca un po' con il titolo. Qua i segretari tramontano, in che senso? Nel senso che in dieci mesi se ne sono andati già tre segretari comunali, non contando il dottor Volpini che era stato nominato dalla giunta Pelagaggia e quindi c'è qualcosa, dicono a Fossombrone, che non va nel manico. Almeno così la pensa la minoranza e il Consiglio Comunale, l'Unione, che punta il dito sull'abbandono della dottoressa Rosa Tramontano, che torna a fare la segretaria ad Auditore e Mergo. Dunque questa è un po' la domanda, l'interrogativo che si pongono quelli dell'Unione. Perché qua a Fossombrone tutti i segretari si dimettono? Questa è la domanda. Poi sotto invece c'è un'altra notizia che riguarda Fossombrone, è una bella festa, una bella iniziativa, la diciassettesima edizione del trionfo del Carnevale che riscalderà l'anima dei forsempronesi, un fitto programma da venerdì sera a domenica. Dunque è un fine settimana, non prendete impegno, andate a Fossombrone perché c'è questa festa, questa rievocazione molto bella che tra l'altro mi pare che domenica ci sia anche proprio bel tempo, questo fine settimana, venerdì, sabato e domenica, quindi il trionfo del Carnevale. Poi dicevamo di questa festa patronale, oggi Cagli festeggia San Geronzio alle ore 11, in comune c'è anche la cerimonia per la consegna delle benemerenze civiche dedicate ai Cagliesi, meritevoli in diversi campi. Apriamo il Corriere Adriatico, velocemente, San Decenzio, siamo a Pesaro, via le aziende, parcheggio per il mercato, troppi abusivi, ambulanti al comune, vigilanza privata, più sicurezza. Questa è la prima pagina. Da Fano invece purtroppo le tariffe di Aset non scenderanno, non caleranno, dunque una doccia fredda arriva dal Presidente Reginelli, questo neopresidente in commissione, infatti ha detto calcolo fisso per l'acqua prima gli investimenti per i rifiuti. L'azienda deve misurarsi anche con la capienza della discarica in funzione dei fanghi del porto. Dunque incomincio a muovere i primi passi, questa Aset Spa unificata, cioè quella che poi ha incorporato Aset Holding sotto la presenza di Paolo Reginelli. Insomma, però a quanto pare, insomma, per quanto riguarda la riduzione delle tariffe non c'è ancora, non c'è ancora, non ci sono ancora i termini. Qualità delle acque invece. Progetti in campo, già in campo, migliorano i valori alla foce del torrente, bagnini fiduciosi per voce di Giuliani, Lido e Arzilla tendono un potabilizzatore e una vasca di raccolta. A Sassonia Sud invece il prolungamento dello scolmatore previsto per l'estate del 2018. Questa è una veduta della splendida passeggiata del Moletto tra le spiagge di Lido e Arzilla. Qui purtroppo la bandiera blu ancora non sventola e non sventolerà, come abbiamo visto, anche per questo 2017. Sulla caduta mortale invece dalla gru del povero Gianni Ambrosini, il 44enne, precipitato il 4 luglio dello scorso anno. C'è stata una nuova udienza ieri al Tribunale di Pesero dove si svolge l'udienza preliminare per la morte appunto di questo operaio. È venuto lo scorso anno, l'operaio residente a Monte Felcino, stava effettuando dei lavori manovrando questa gru in via Polloni in pieno centro a Fano quando all'improvviso è caduto facendo un volo di quasi di più di 20 metri che non gli ha dato scampo e morto sul colpo. La vedete la gru, questa gru che era lì il 4 luglio del 2016. Tante domande senza risposta. Il datore di lavoro sostiene che la gru era difettosa, centinaia di casi potenzialmente a rischio perché quelle gru sono state fatte in quel modo e per il datore di lavoro tante sono le persone che lavorano su quelle gru in tutta Italia che hanno quella cosa che così non dovrebbe essere, che quindi sono potenzialmente a rischio. Sul Corriere invece la pagina di Pesero e Provincia si occupa della candidatura di Maria Giovanna Cenerelli, Presidente di Montemaggiore Resiste, quella associazione, quel comitato che si batte per ridare autonomia al Comune di Montemaggiore e quindi farlo uscire da Colli al Metauro. Ebbene, la Presidente, questa Presidente si è candidata con Stefano Guzzi. Lei dice, io sono pronta di mettermi, da Presidente di Montemaggiore Resiste e ha spiegato anche il motivo di questa scelta, il perché ha deciso di candidarsi con la lista dell'ex sindaco di Fano. Poi ancora sotto vedete la notizia del trionfo del Carnevale a Fossombrone, torna la grande rievocazione storica. Andiamo sull'altra pagina, quella di Urbino, perché ieri c'è stato questo incontro tra il sindaco Gambini con gli studenti universitari. Sapete che Gambini vuole la chiusura dei locali alle 1,5 senza tante storie, perché gli schiamazzi sono all'ordine del giorno, quelli notturni. Invece gli studenti vorrebbero che si protresse un po' più in là, quindi la chiusura, verso le 2,5. Sui bivacchi, dice Gambini, non torna indietro, copri fuoco solo in casi estremi. Il sindaco in piazza tiene testa sulla Movida, gli studenti di diritto alla città. I giovani hanno rivendicato la revisione delle decisioni repressive messe in campo che hanno ridotto gli spazi di partecipazione. Per Gambini, lo ricordiamo, sindaco di centrodestra, il decoro è stato migliorato con il divieto di portare bottiglie lontano dai locali. Dalla Valle del Cesano, invece, iniziati i lavori per la fibra ottica. La regione Marche finanzia 51 chilometri. Il comune di Mondolfo nella prima fascia del progetto per la connettività veloce. Senigallia, invece, la marijuana spunta dagli slip davanti agli occhi dei genitori. Due studenti di 16 e 17 anni sono stati perquisiti dai carabinieri. Mixte droga e alcol, allarme tra i giovanissimi. Vedete il comandante della compagnia Carabinieri di Senigallia, qua nella foto vicino alla testata. Cleto Bucci, che dice che i militari dell'Alma hanno messo in campo controlli mirati. L'ultima pagina, invece, è quella di Recanati per questa notizia di cronaca. Si schianta con la safety car, paura in diretta per Uncini, l'ex campione della 500, vittima di un incidente sul circuito di Gerez della Frontera. Ok, ci fermiamo qua. La rassegna stampa torna domani mattina, come sempre, alle 7.30. Noi ci vediamo stasera, invece, alle 20.30 con occhio alla notizia, il telegiornale di Fano TV sul canale 17. Grazie per averci seguito. Buona giornata a tutti. Grazie a tutti.